Ragazzoni belli, benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi un video diverso dal solito perché ci troviamo su Rainbow Six Extraction. Un gioco nuovissimo e peraltro oggi giocaremo in compagnia di due ragazze, ovvero Alessia de The Lioner e Midna The Player Inside. L'obiettivo sarà ovviamente quello di portare a termine più missioni possibili all'interno del gioco. Questo perché è un gioco che consiste appunto nel portare a termine tante missioni che sono tutte diverse da di loro e vi assicuro ragazzi che ce ne sono veramente tantissime. Oltre a fatto che ci sono tantissime cose che si possono fare all'interno del gioco, ovvero personalizzare appunto le armi, avere appunto degli operatori differenti da di loro con determinate abilità che magari ogni abilità serve magari per una determinata mappa rispetto ad un'altra. E ci sono tantissimi nemici nel gioco, quindi è un gioco veramente super flessibile e ci sono tantissime cose da fare. Oltre a fatto che ci sono diverse modalità di gioco, ovvero appunto la modalità un po' più semplice, quella un po' normale e quella veramente estrema. Noi abbiamo scelto la modalità più normale e vi assicuro che era ugualmente difficile. Detto ciò ragazzi non perdiamoci in chiacchiere, lasciate subito un bel pollicione in su a questo video e fatemi sapere qui sotto nei commenti a fine video che cosa ne pensate di questo nuovissimo gioco. Detto ciò passiamo al gameplay, non perdiamoci nuovamente in chiacchiere e let's go! Allora io prendo Pulse, perché? Perché sì. È una motivazione più che valida. Io ho preso una tizia, non so come si chiama ma è una tizia. Tizia? È una tizia, sì. Vado con Finca che ci cura tutte e ci dà vita, così almeno... Ah, che bello. Qualcuno di altruista. Generoso. Qualcuno che spera che così mai ce la facciamo, ma credo di sì. Comunque i vestiti sono fighissimi, cioè io che ho giocato e gioco spesso Rainbow Six, posso dire che questi sono molto belli come vestiti. Ci siamo. Ci siamo. Il primo obiettivo abbiamo detto è... Ah, salvataggio. Estrae la risorsa. Iniziamo con qualcosa di semplice. La risorsa sarebbe una persona. Non saprei, sai, forse. Sì, sì. E presumo, eh. Penso di aver avvisato il mondo. Praticamente i nidi vanno abbattuti perché altrimenti fanno spawnare roba. Oh, c'era uno dietro. Praticamente sto melma che c'è a terra rallenta. Non l'ho semplice, l'ha fatto male. Oh mio Dio. Io ho sentito un acuto lirico, non lo so. E' successo qualcosa qui che mi ha letteralmente ucciso. No, abbiamo già perso. No, no, no. Allora, questa si taglia. Non è mai accaduta questa cosa. Ti sta raccogliendo da terra, ti sto... Dai! No, ok, non era una buona idea. Non era una buona idea. Ma sono troppissimi qua. Allora, io diciamo che sono viva un pochino, non tanto. Riesce a venire versi di me? Sì, sì, bravo. Comunque il primo obiettivo ho fallito. Cioè, questo è già per... Ok. Corri, corri, corri. Ok, morti, morti. Ok, ho dato un po' di vita. La prendi tu? Ok, sì, la raccolto. Oddio! Dai, posso stare solo la pistola se la raccolgo. No, vabbè. Eh, lo so. Quello mosso giallo sono io. Sì, quel mosso giallo sei tu. Ma sei tu. Ma sei tu. Tra l'altro ho visto che ci sono tantissimi archei. Cioè, questi nemici hanno abilità diverse, ma sono molto diversi tra loro. Sì, ce ne sono tipo 13, mi sembra. Ce ne sono tantissimi. Sì. Ok, lui non era molto... Oddio. Praticamente è morto uno. Si rovina la missione. Perché adesso mi dovete portare al punto di estrazione. Eh sì. Sì. Perché abbiamo fallito tutto. Ma non ti abbandoniamo. Scusate. Ti proviamo, ti proviamo. Ecco, adesso inizio a avere le munizioni scarse. Quindi se c'è, ecco qua. Ma è cassa delle munizioni. Oh no! Adesso questa cassa delle munizioni. Posso lasciarti anche per terra un attimo e usare l'arma principale? Ok. Brave ragazze. Mi sostengo con... Ti lascio l'attimo per terra, tranquilla. Mi vengo a riprendere. Tranquilla, non ti muovere. Non ti muovere, arrivare lì. Almeno posso stare l'arma principale, perché con la pistola è un po' un problema. Conviene forse che proviamo a ripulire un po' davanti. Io con 5 di vita mi vedo molto bene. Eh sì, ci servono delle cure. Apriamo doppia porta. Ok. Non mi sento a miagio su questa melma, eh, però... Il punto di estrazione è il simbolo dell'elicotterino. Sì. Qua c'è un medikit se ti serve. Sì, a te se ti serve più di me, quindi vieni qua, vieni qua. Ok. Ehm... E qui. E si va. Ok, dobbiamo soltanto andare all'elicotterino. Eh... Sì, possiamo farcela. Ma non è troppo distante. Ho dato grande contributo a questa missione, mi sembra. Ci hai fatto i muscoli, cioè... Allora vuoi che la porto un po' io così almeno? Se vuoi. Ci vuoi farti i muscoli anche tu? Va bene. Vai, a testa, vai. No, ma la c'è sta cosa che fai... Tipo sacco di patate. E qua ci siamo. Ok, basta fare il numero 7558. Ah, no, c'è anche la barella. Ma che servizio completo. Eh, faccio la sauna. Che succede? Ah, ok, questa è proprio l'estrazione di un'emissione. Prima missione è andata benissimo. E io arrivo tipo fighissima. Zero XP. Ah no, dai. Facciamo vota per rigiocare perché è stata un po' impietosa. Ok, vuoi fare questo io? Ok, vai. Ed eccoci qua. Dobbiamo trovare il tizio sfortunato. Salva l'operatore. Andiamo io, il P90. Buono, buono, buono. In teoria bisognerebbe iniziare col drone. Prima trovare l'obiettivo e poi andare. Vogliamo fare le cose bene? Sì, dai, facciamolo. Vai, allora drono io. Ok, facciamo così. Droniamo una dall'altro, una dall'altro. Sapete che non c'è il tasso per il drone? Mi credete? Dovrebbe essere 5. Però non so, magari tu l'hai cambiato. Ah no, oh sì, funziona. Cioè mi diceva che non c'era il tasso, invece... Io non lo sto trovando. Sto trovando solo dei maledetti. No, ma non ci vengono a cercare loro. Finché siamo lì... Anche perché non abbiamo fatto casino, quindi... Drone distrutto a un tempo, dopo un po' si scarica. E purtroppo non ho trovato nessuno. No, neanche io, non l'ho trovato. Nemmeno io. Allora, nessuno è andato a destra, vero, col drone? Di qua dove sono a destra? Ah no, lì no. E allora secondo me dobbiamo andare di qua, perché non l'abbiamo trovato, quindi... Ma sì, alla fine è il punto dove ci sono porte chiuse. Porte chiuse uguale problemi. Allora, io direi anche di puntare sempre di più ai nidi, perché sono quelli che fanno sponare gli sgraziati. Oh! Eccoli! Ma che carini che sono! Ma dove sei nascosto capitao? E dove sta capitao? Meravigliao! Sì, di qua, no? Troppo schifo qua! Infatti sto togliendo un po' di roba. Datemi un GPS però! Io mi perdo! È un po' malissimo questo! Eh, ma qui c'è... Nooo, questo fa malissimo! Ecco, appunto. Usiamo un medikit con urgenza qua. Forza miseria, eh! Ma io dopo che fermo il regino... Allora, questo è un albero, ma non c'è dentro, capitao. Ah, ok, metti le corasse per tutti. Una la prendo, ragazzi, che sono veramente a terra. Ok, c'era un'altra. Oh, ma capitao? Saliamo ancora, forse? Saliamo ancora? Proviamo, dai. Andiamo, andiamo su. Sto giocando al nostro mino, capitao? Che te capitao? Ma scusate, è bruttissima. Troppo cringe! Pagliatela dai vostri gameplay perché non... È la battita base di un giocatore di Rainbow Six in realtà, eh! Quindi nemmeno originale, quindi se vogliamo. Comunque qua ci siamo già tornando... È la lavanderia? Sì, qua sì. Allora. No, ma deve essere qua per forza. Lì in lavanderia? Eh, qua vicino magari. Oh, dietro... Eh, vabbè, sono a terra. No! Aspetta che c'è troppo veleno appena... Ok. Uno lo sciso. Uno lo sciso. E che cavo fa? Grazie. Ci siamo? Eh, noi ci siamo, ma non c'è capitato. Siamo qua, non c'è capitato. Ragazzi, ma... Cioè, dai, seri. Qui si aggira a giratondo. No, facciamo... Eh, c'è un medikit, c'è un medikit qua. Dove sono io. Venite. Eh, picchiatevi chi lo deve prendere. Io c'è un po' di vino. Dai, lotta, lotta. No, dai ragazzi, ma... Ok, un pochino a me. Non è possibile. No, comunque non è possibile che non teniamo un albero enorme. Allora, facciamo così, andiamo di qui. Poi penso che abbiamo distrutto un bel po' di nidi perché non ci sono tanti nemici. Allora, io sono ritornata nel punto dell'inizio, ok? Ci sono due porte chiuse però qua che abbiamo ignorato, ragazze, subito all'inizio. Ah, è vero, perché ci sono andate subito sulla destra, se non sbaglio. O dietro, non ricordo. È anche da dietro però. Credo che sia qui. Credo che... Ho un forte istinto. Il mio sesto senso dice che è qua. Dai, qua c'è troppo schifo per non essere qua. Eh, infatti, voglio crederti. Quanto non ci siamo stati, infatti. Occhio! Tramato! Tramato! Mamma mia! Alla buon'ora, doc, come si chiama? Capitao. Io sparo alle cosina. Tiro, dai. Allora, un nodo. Rosto. Un nodo rotto. 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 Mi mancano pochi. Quelli dietro fa un altro passo. Ok. Un altro passo pure qui. Fatto. Manca l'ultimo, è quello lì. Lassù, fatto. No, manca solo la mia testa. Vai. Ah no, ce ne creano altri. Ah, quindi dobbiamo fare tipo subito. Dobbiamo essere più veloci, sì. Questo nodo è lunghissimo. Ma dov'è? Ma dov'è? Solto. Se ne creano sempre di nuovi. Solto un altro. Solto un altro ancora. Dai che ce la facciamo, facciamo un altro. Uno sopra. Uno sopra che... Ok. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Sì. Ce la abbiamo, ce la abbiamo, ce la abbiamo. Ok. Al punto di estrazione. Dai, andiamo. Facciamo la strada all'inverso, dai. Non richiedi estrazione. Ho sbagliato, scusate. Eh no, ce ne andiamo adesso. Ce ne andiamo. Ho poche punizioni. Occhio, occhio, questa zona non è molto sicura. Quello puzza. Quello sbuca dalle pareti. Ok, la situazione mi sa che è un pochino più agitata di qua. Eh, ma di là dobbiamo andare. A meno che non aggiriamo a destra. No, attente alla puzza, lo smoke. Ok, mettete il pin. Oh, sorpresina. Dentro. Ah, pure. L'imboscata. Abbatti il bersaglio. Però ragazzi, non bisogna sparare. Bisogna ucciderlo col coltello. Perché sennò... Questo cretino muore. Sì, 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 col coltellino, guarda. Guarda, 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 guarda. Che carino. Ticchide. Trovato, trovato. Aspettate, ragazzi. Andiamo di stealth, andiamo di stealth. Si prova prima una, poi va l'altra. E poi dopo l'altra. Fatto. Ok. Ah, sono tre. Sono tre. Sono tre, ragazzi. Qua c'è l'estrazione. Vediamo dall'altra parte. Ecco, ho trovato. Ragolo, ragolo, ragolo. Giù, giù, giù. Piano, piano, piano. È così buono. È l'unico buono. Non lo sarà più a breve. Sarà breve in dolore. Ok. Molto bene. Ne mancarà altro. Mi prego uno di qua. Trovato. È sotto, è sotto. Corri da lontano. No, no, però ci ho visto. Ho trovato. Ho trovato. Come facciamo? Ma non era questo. No, 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 sparate, no, sparate. Mi sacrifico. Mi sacrifico per il meme. Niente. Eh, no, dobbiamo ammassarlo, dobbiamo ammassarlo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Mi ha coltellato? Sì. Scopro il colpio. Scopro il colpio. Scopro il colpio. Morti. Ci sono altri, mi devo calcare. Vai. Stiamo vive e ce l'abbiamo fatta. Un grande successo. Io ho bisogno di munizioni, le posso prendere. Prendile, prendile, prendila. Ma qua ce ne sono altre comunque. Se ne sono altre, prendile, Midna. Quante ne hai? Eh, no, ne ho abbastanza. Eh, ma anch'io. Io ne ho 400 e passa. Ah, io ne ho 100, però... Allora, prendile, prendile. Oh, un albero vero, che non è tutto malato. Che cos'è? Oh. Sì, c'ho la corazza per tutti, ok. Io non ce l'ho. Eh, allora, aspetta che la metto. Sì, la prendiamo. Io ce l'ho, io ce l'ho, quindi se vuoi... Eh, no, anch'io ce l'ho. Non credo me la faccio prendere, vediamo. No, infatti. Che è? Oddio. Sento un picchio. Oddio. Eh, ma non è il bugato questo. Ma Midna, la pompa fa paura. L'ha fatto volare. Ok. Ma non posso richiudere la porta dietro? Eh, non credo. Sì, invece. Oh. Chiusa. Stop. Attiva le stazioni. Ah, ragazzi, ho triangolazione. Ne attiviamo uno e si corre nell'altro. Ok. Oddio, di qua però, ragazze. Va bene. Dai, facciamolo. Ok, andiamo nell'altro. Corsa, corsa. No, 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 no. Non si può passare, non si può passare. 30 secondi. Dai, vado. Ok. Continuano a aprire da dietro questi qui. Mannaggia. Corriamo, 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 corriamo. L'ho fatto. Ci sono un cent... Ma chi è che... Sono morta. Stavo uccidendo i... Abbiamo fallito la missione. Ma perché? Allora la dobbiamo portare dietro. Non lo so. Vai, la prendi, la prendo io. Perché in realtà erano tre le stazioni, non due. Eh, l'abbiamo attivate due. Eh, niente, dobbiamo portarlo all'estrazione allora. Sento robe brutte. Sì, ti sta fremando la terra. Non sono soli imitanti, giuro. Ma cazzo? Eh, sì, un'imboscata. Stanno pure nel punto d'estrazione, è assurdo. Ma è, ho fatto la... Mettetemi nel frigo. Nel solarium. Ecco. Ah. Ah, riposati. Buonanotte, no, sono arrivati tutti. Sì, fia di questo. Sì. Non sei solo te che ce le puzze. Ce l'ho anch'io, no? Faggile vedere. Però due le abbiamo fatte, eh? Quasi tre, comunque. Quasi tre. Dai, dai, dai. Dai, dai. Non è andata male, no. No, no, no. Questo è tra i migliori. Noo, no, no, no. No. Non, no, no. Grazie a tutti.